Siamo partiti da Ferrara e siamo andati subito a Villa Vicentina, da Villa Vicentina ci hanno vestiti e siamo andati a Feltre. Che anno era? Subito nel 1939, siamo stati lì un mese, un mese e mezzo poi siamo partiti per il fronte. Il fronte dove era? Il fronte era in Albania. Mi racconta un attimo com'era la vita? La vita era un po' brusca perché su in alta montagna si congelavano i piedi o si congelavano le dita delle mani, capisci? E allora perché giù in questo fiume i soldati facevano il bagno, capisci? Facevano il bagno e lassù si congelava, capisci? E ho fatto una vita un po' brusca, essendo così giovane, dopo poco non c'era spazio di lavarsi, eravamo pieni di bedocchi, capisci? che non c'era la possibilità di lavarsi, il mangiare arrivava come arrivava, non arrivava sempre seguente, capisci? E quando arrivava era un po' mica tanto buono, capisci? Sì, queste qua sono le foto della Voiussa. Che cos'è la Voiussa? La Voiussa è un grande fiume largo, 30-35 metri circa e se poteva, dovevamo passarlo, dovevamo passarlo con i lavandosi le scarpe e passare il fiume, si bagnavamo tutti i pantaloni e di sciogare se non si poteva, perché cosa c'era? Il fiume la passavamo di notte perché se no eravamo centrati, capisci? Da chi? Ah, degli inglesi, c'erano gli inglesi e i greci, perché loro avevano delle armi un poco più potenti. Ma hai raccontato che sei andato a Feltre, da Feltre dove li ha mandati poi? Subito siamo andati in Bari e da Bari siamo andati in Grecia. Dove? Dove siete arrivati si ricorda? A Durasso, in Grecia poi dopo c'erano i camion che si portavano verso il fronte. Qualc'era l'altra? Ah, un battaglione. Noi eravamo su un concursolo con tutti il nostro gruppo e si spostava e mandava la guardia. Una sera vado di guardia e ero proprio nell'entrata e allora sentivo a battere i zoccoli, tac, tac, e allora c'è una tia, ma chiamo il copoposto e poi dico ma guarda là, c'è qualcosa, saranno i partigiani, i borcocani. E loro dice aspettiamo un po'. E loro venivano avanti, spara, ho dato una raffica a Dimitra, era un submarino. Abbiamo ucciso il submarino, abbiamo ucciso il submarino e dopo il submarino lo abbiamo portato su, l'hanno fatto fuori, se la siamo mangiati.